Questi comuni, sei comuni con i quali abbiamo fatto questa manifestazione e l'ultima l'abbiamo terminata a Marano, visto che Mugliano non si è potuta fare e infatti l'immagine di Franco è quella della premiazione che abbiamo fatto a Marano. Quindi io vorrei solo abbracciare tutti e ringraziare per la presenza il figlio Marco, Enzo il fratello, che ha giocato sempre con la grinta, ma era il fratello Franco che era fuori e dirigeva, lui si incavolava ogni tanto e lo cacciava fuori. Ma ci va bene, perché la pancia non scendeva? Mimmo, anche tu vuoi dare un saluto sicuramente? Certamente Franco è nei nostri cuori e presente qui oggi, non alla maglia, chissà dove che sta, ma ci sta, perché noi lo sentiamo dentro di noi, questo ragazzo che veramente, Dio ragazzo, certamente è così, perché veramente l'amicizia che si è creata in questo torneo over 50 è stata qualcosa di eccezionale. E oggi stamattina vedervi qua, completamente diversi, interpretare qualsiasi cosa, ma stiamo tutti insieme con la stessa maglia, ma con lo stesso cuore, per ricordare un nostro grande amico. Franco, ciao, un bacione a te. E vi ringraziamo per questi due fantastici interventi e vi ricordiamo che a breve inizierà la partita proprio per il Memo. Campo, Barone, Pica, Coppeto, Pugliese, Carannante, Parascandolo e Porzio. Mentre per la squadra arancione scenderà in campo Ruggero, Scotto, Sorrentino, Iacono, Pugliese, Mango, Illiano. Buona partita a tutti voi, grazie. Buona partita a tutti voi, grazie. 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 Grazie.